Le religioni nascono sempre da delle tavole di pietra, no? Pensate alla stile di Hammurabi, venne dettata dal dio Shamash, dio sole. Poi avremmo trovato delle tavole di pietra incise nell'ebraismo, dettate da Yahweh. Quelle tavole di pietra a cui facevi riferimento, cioè le Georgia Guidestones, hanno dei comandamenti parailluministi, dico para nel senso che fanno finta di esserlo, anche perché poi la strada dell'inferno l'ha stricata sempre, no? Delle migliori intenzioni. Anche perché nel momento in cui si parla di una riduzione della popolazione mondiale a 500 milioni di persone, 500 milioni perché poi 500 milioni? Perché non 500 milioni e uno. Se quell'uno fosse Leonardo da Vinci, una persona ne può valere per un miliardo, ok? E un miliardo di persone non possono valere la vita di una persona. Quindi, e noi oggi lo sappiamo, noi oggi in cui abbiamo visto la maggioranza della popolazione fare il plebiscito del Novecento. Lo stesso plebiscito del Novecento che portò Mussolini e Hitler, no? Sui loro piedistalli, oggi è stato fatto chiaramente non con le urne elettorali, ma in un altro modo, no? Inutile che ve lo dica. È stato fatto così. Quindi se obbedire e vivere di meri istinti bestiali è quello il Vangelo della nostra vita, allora sì, allora siamo in troppi.